La libertà di stampa passa attraverso il pieno rispetto della deontologia professionale. Lo ha detto la giornalista del mattino di Napoli, Rosaria Capacchione, ospite dell'iniziativa organizzata dall'Associazione della Stampa di Basilicata e dal For Media per celebrare la giornata mondiale della libertà di stampa. Nella sala del cortile di Palazzo Loffredo, presso il Museo Archeologico Nazionale Dino Adamesteanu, Rosaria Capacchione, giornalista che vive sotto scorta da molti anni per aver raccontato il mondo della camorra, in particolare quello del clan dei Casalesi, si è soffermata sulla sua esperienza di cronista e in particolare sulla professione giornalistica e sulla necessità di mantenere la schiena dritta a prescindere dal contratto.